Tutti in piedi per Giulio Sciccone, anche le campane in festa, nella tua brecciarola Giulio. Buonasera a tutti, compaesani e non. Potete applaudirlo forte Giulio, il tempo è infinito, anche perché se lo merita. Siamo all'arena di Verona, qua o al casone di Brecciarola? Secondo me siamo a Brecciarola, secondo me. Cominciamo col video che hai appena rivisto? Diciamo che sono stati i momenti un po' più importanti di questa stagione. Io prima voglio ringraziare tutti perché, a parte che siete tantissimi, non me l'ho aspettato. E poi perché mi supportate sempre, in giro per il mondo, che sia al Giro d'Italia o a Pescara, al Matteotti o al Tour de France. In qualsiasi gara, in qualsiasi parte del mondo, sento davvero di avere una piccola contrata, un piccolo paese, una grande città che mi segue ovunque. Quindi grazie veramente per questo.